Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un titolo che vi chiederà di costruire il vostro Luna Park in cui accogliere quanti più visitatori possibili. Visitatori sotto forma di microscopici e colorati Meeple. Vi parlo di Meepleland, gioco di Cyril Allard Frederick Gerard per 2-4 giocatori, una durata di circa 60 minuti a partita, edito in Italia dalla Olifante 2. Vediamo quindi se siete pronti a mettere dei baracchini di hamburger ma soprattutto dei comodissimi bagni. Recensioni Minute Durante il proprio turno un giocatore può scegliere fra tre diverse opzioni. La prima è acquistare un'attrazione oppure un servizio, oppure un'espansione del proprio parco, oppure ancora un ingresso addizionale. Ciascuna di queste tessere riporta delle strade, esse devono essere collegate almeno per un punto alle strade già esistenti e bisogna pagare il proprio costo riportato qua nell'angolino in basso a destra. Ad esempio potrei pagare due soldi per acquistare questo chiosco di hamburger e piazzarlo ad esempio in questo spazio. Ora siccome questa attrazione è adiacente al chiosco di hamburger, le si sbloccano questi spazi che richiedono appunto il chiosco hamburger. Ora potrò accomodare uno dei miei visitatori blu ancora all'ingresso in questo spaziettino. Successivamente ad esempio potrei acquistare questa attrazione, la collego per questa strada e questa ci toglierà punti perché non finisce lungo un'altra strada. Ovviamente dopo aver fatto il proprio acquisto si deve ripristinare la fila centrale. Tocca al giocatore successivo che ad esempio potrebbe scegliere come altra opzione di fare pubblicità. Paga due monete e raccoglie istantaneamente questi due visitatori che può piazzare nel proprio parco. L'ultima opzione è quella di passare. In tal caso si aspetterà che tutti passeranno ma nel frattempo si può scegliere uno di questi pullman ancora parcheggiati. Esso scaricherà tutti i visitatori all'ingresso del nostro parco e potremo piazzarli immediatamente nel nostro parco. Ad esempio questi due spazi gialli sono abilitati perché c'è l'hamburgeria e un altro visitatore blu che si può accomodare in questo spazio. Quando tutti hanno passato e piazzati i propri visitatori ciascuno raccoglierà un soldo per ciascun visitatore piazzato nel proprio parco più eventuali soldi bonus dati da alcuni spazi particolari. Arrivano nuovi pullman si gioca un nuovo round e al termine del quarto round bisogna sommare i propri punti vittoria. Si sommeranno i punti dati dal numero di giostre diverse fra di loro sommeremo i punti dei visitatori che sono rimasti soddisfatti di quello che hanno trovato toglieremo punti per i visitatori rimasti all'ingresso e fare toglieremo ulteriori due punti per ogni strada che non finisce correttamente lungo un'altra strada. Si fa la somma e neanche da dire che al totale più alto è il vincitore. Diciamo che la struttura del turno non sarà sicuramente un problema si tratterà appunto di acquistare queste tessere piazzarle sul vostro piano di gioco facendo coincidere le strade ma è un qualcosa che farete in maniera intuitiva e procederete così fino al termine di tutto il vostro denaro. A quel punto prenderete il pullman più appetitoso dei visitatori che dovrete piazzare nel vostro parco. È chiaro però che se volete vincere la partita dovete buttare un occhio un pelo più in là. A iniziare ad esempio sul piazzamento dei servizi. Sono fondamentali da mettere nel vostro parco perché praticamente tutte le attrazioni hanno almeno uno o due spazi che richiedono dei servizi speciali che siano vi ricordo adiacenti all'attrazione stessa. Il punto è che essendo delle tesserine uno per uno vi occupano un sacco di spazi. In un attimo le tessere grosse saranno troppo distanti fra di loro farete fatica a piazzarle quindi dovrete iniziare a piazzare quelle in posizione verticale ma a quel punto farete fatica a gestire la diversità delle attrazioni. Questo perché a fine partita sono solo le attrazioni diverse vi ricordo che vi danno punti vittoria. Tutte le altre copie della medesima attrazione semplicemente accoglieranno dei visitatori nel corso della partita quindi vi forneranno del denaro ma in termini di punti vittoria finali vi hanno solamente occupato del gran spazio. Una cosa poi che dovrete imparare a gestire e ve ne accorgerete nel corso già della prima partita è il pullman di fine round. Qua c'è anche un'altra interazione fra i giocatori. Questo perché ci sono spesso dei pullman che non vi interessano minimamente che hanno solamente colore di visitatori che non potrete accomodare nel vostro parco e tutti i visitatori che non trovano spazio vi toglieranno preziosi punti vittoria a fine partita. Quindi sarà tutto una tensione fra decidere quando passare in modo tale da assicurarvi il pullman che effettivamente volete che effettivamente fa accomodare più visitatori o ve ne lascia meno all'ingresso rispetto a quando passeranno i vostri avversari. Vi faccio notare che se tutti gli avversari passano in fretta e vi soffiano proprio i pullman che vi interessano vi rimarranno solamente quelli di punti negativi. Per quanto riguarda la crescita nel gioco vi dico che nel primo round vi sembrerà di fare davvero poco. Farete due massimo tre acquisti, piazzerete qualche visitatore e ve ne rimarranno tanti all'ingresso. In realtà man mano che siamo avanti con i round scoprirete che troverete sempre più soldi a disposizione, vorrete comprare sempre di più e a quel punto anche l'espansione che costa ben sei soldi sarà interessante da piazzare a fianco del vostro parco. Di contro sarà sempre più stretta la vostra selezione nel corso della partita di quello che vorrete comprare fisicamente. Comincerete a dire mi serve la giostra dei cavalli però voglio solo visitatori rosa e mi piacerebbe che volessero gli hamburger così la piazzo in questo spaziettino oppure ti prego compra qualcuno dei servizi perché a me serve assolutamente un bagno e qua non ci sono bagni quindi se lo compri magari si ripristina quindi è meglio allora forse compro questa giostra in modo che magari sotto ce n'è un'altra che mi serve insomma comincerete a pregare che quella determinata giostra oppure quel determinato pullman per il round successivo capiteranno e quindi dovrete in qualche modo pianificare in base a quello che avete ma anche un po' azzardare per il futuro. In conclusione il target family è ben centrato ci troviamo di fronte a un gioco molto colorato con una bella presenza sul tavolo che permette di sedere al tavolo tutti i tipi di giocatore da chi è alle prime armi a chi è più esperto ciascuno riuscirà a trovare il suo modo di giocare con soddisfazione c'è una buona interazione al tavolo quindi c'è anche la possibilità un po' di insultarsi che male non fa mai e c'è anche un po' quel pizzico di azzardo che rende la partita sempre un po' tesa in più avete il feedback sempre in tutti i vostri round diciamo che vedrete fisicamente se state facendo bene o male in base ai soldi che vi arrivano in base a tutti i visitatori che rimangono al vostro ingresso e quindi non mi resta che dirvi fate una partita e fatemi sapere come vi è andata direi che ho finito vi saluto e vi dico ciao e alla prossima ci sono una cosa che in questo meeple mi ha lasciato un attimo perplesso ovvero sia che a fine di ogni round raccogliete un soldo per ciascun visitatore nel parco ecco al termine del quarto round raccoglierete i soldi ma la partita è terminata e quindi non li potrete usare tra l'altro non fanno neanche punti vittoria quindi è una cosa un po' strana non è che non funziona è semplicemente una regola un po' strana si poteva tagliare questa piccola fase con questo lasciatemi pollice su pollice giù commenti come volete in modo da farmi sapere se vi è piaciuto il gioco che comunque risulta assolutamente scorrevole iscrivetevi al canale youtube per avere le notifiche quando escono i miei video che ormai ho un ritmo forse nato e i canali telegram e instagram se volete avere proprio le ultime news con questo vi dico ciao ne